Ieri alle 11 e mezza la mamma di Enea ha portato il suo bambino presso la culla per la vita della Mangiagalli. Immagino con quanto dolore abbia schiacciato il bottone nero che solleva la sala cinesca, abbia posto il bambino al caldo nell'incubatrice lasciando un biglietto, un biglietto toccante che denota l'amore di questa mamma per il suo bambino e certamente la disperazione di abbandonarlo ritenendo che questa era la soluzione migliore per garantire il miglior futuro al proprio bambino. Io vorrei dire a questa mamma che è ancora in tempo per pensarci e ripensarci e che è possibile riprendere il proprio bambino se ci contatta e cercheremo poi di aiutarla anche perché ci sono tutta una serie di associazioni penso al centro di aiuto alla vita della Mangiagalli che sia durante la gravidanza che dopo il parto aiutano le mamme in difficoltà. In questa zona della Mangiagalli c'è un sistema tale per cui le mamme se vogliono lasciare il loro bambino schiacciano un bottone, depositano il bimbo su una culla, dopo 40 secondi la clerc che si era prima alzata si riabbassa, suona un allarme in terapia intensiva neonatale e noi ci attiviamo per venire ad assistere il bambino.